Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Una buona notizia per molti ex lavoratori dell'ex isochimica che attendevano il prepensionamento. A darla è il deputato ilpino Luigi Famighetti attraverso un comunicato stampa dal quale al netto dei tecnicismi giuridici si apprende quanto segue. In aggiunta ai circa 80 lavoratori che già fino ad oggi hanno usufruito della maggiorazione contributiva, ulteriori ex dipendenti che matureranno i requisiti entro il biennio 2019-2020 potranno finalmente andare in pensione. Bravo l'onorevole, l'augurio sincero dall'Irpinia tutta e che anche egli, possibilmente con le prossime elezioni politiche, venga in via definitiva collocato al riposo. Grazie a tutti.